Buona vista dal vostro attore della pegnalbola in spinto e se andiamo con il spagnolo Tutti ragazzi, allegria, io vado a tutti voi e via il calcio, il sport più bello del mondo Eccoci qua con la barba fatta, tutto siamo qui in casa mia per dirvi le probabili formazioni per non osservare la serie Pronti? Provedel, Lazzari, Mario Cile spagnolo, Romagnoli, Pellegrini, Luca Pellegrini, Guendosi, Rovella, Vesino, Isaacsens, Castellanos, Zaccagni Direi Lazio-Bologna 4-3-3, vediamo come risponde il Bologna Ravaglia, De Silvestri, Beugema, Lugumi, Miranda, Pobega, Freuler, Orsolini, Odgaard, Carson, Castro Questa è una partita difficilissima, Lazio-Bologna spero che da uno più o per uno e mezzo, insomma due a zero Una partita, speriamo di mettere subito in ghiaccio Se tu dici un marcatore, anche due, direi Castellanos e Zaccagni Li vedo in grande sport, però soprattutto quest'ultimo, l'ala sinistra della Lazio Mattia, proprio il capitano Dopo abbiamo altre partite del giorno, ovvero Genoa-Cagliari In cui dico 1x2-0-1-1 Genoa Como-Fiorentina, x2-1-1-1-1-3 per la Fiorentina Ed infine abbiamo anche, diciamo, tre partite Torino-Monza, 1x 3-0 Torino, 2-2 Comunque dico per due e mezzo, da tanti colle ci saranno Mezzo il Torino non era segnale Sono convinto E Napoli-Roma, in cui dico 1-2-1-0 Napoli O 1-2 per la Roma Una sorpresa Diciamo una sorpresa che la Roma potrebbe tornare a vincere con il nuovo allenatore Ranieri Cioè, in teoria su due squadre forti dici potrebbe esserci pareggio Ma nessuno dei due vuole perdere perché Napoli vuole allungare per essere ancora il più primo E la Roma vuole recuperare dalle brutte figuracce Le brutte figure, insomma, fatte prima, intendiamo E questo è quanto, ragazzi Vi saluto e vi ringrazio, ragazzi Sembra comunque Forse, ragazzi, buona la prima Con la Rima Vinciamo la prossima scherina Oggi Sembra comunque forse anche la Rocca Calcio Se ne muovete la Rocca nel primo valigio 14.30 Sarà un video per quell'ora Penso dopo un tre Dopo vederei più o meno Per azioni importanti della partita Che filmeremo magari anche qualche gol se ci riusciamo Buona la prima con la Rima Buona la Rima